eccoci buongiorno tutti siamo in live non riesco a capirlo buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra 136 centotrentesima live del podcast di psine non sento niente noto questa cosa qua credo spero di essere in live intanto ecco forse ecco forse devo aggiustare i parametri del mio nuovo mac e di questa applicazione perché non riesco a sentire gli effetti gli effettini probabilmente dovrei attaccare quel qualche altro qualche altra roba allora prima di capire se siamo live o meno ecco il modo più semplice questo andiamo a vedere qui o sì siamo live quindi buongiorno a tutti buongiorno a tutte vediamo un po la chat eccoci quasi genna sei in live grazie lice grazie mille ringraziamo licea ragazzi grazie buongiorno ecco vedi ecco 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 il problema allora mentre commentate buongiorno buongiorno a tutti vi chiedo di scrivere il vostro nome perché l'applicazione per il mac simpaticamente mette solo la vostra immaginina io più o meno mi ricordo mi ricordo di rene di antonella di andrea ma non mi ricordo proprio di di tutti per cui per aiutatemi aiutatemi vedo tutti i giorni migliaia di fotine migliaia di nomi quindi scrivete il vostro nome altrimenti dovrò dire tupi che appena scritto buongiorno ok no questa cosa qui è da aggiustare assolutamente è da aggiustare assolutamente allora buongiorno a tutti buongiorno a tutte oggi parliamo di un tema davvero affascinante che è arrivato un po per caso anche perché come sapete le live arrivano un po per caso nel senso che sono qui per rispondere più alle vostre domande che per parlare di un argomento specifico e in particolare intanto vi aggiorno sulla live precedente forse non tutti sanno che abbiamo rettificato la live precedente perché selvaggia lucarelli mi ha scritto mi scritto in privato e mi ha scritto di ratificare il fatto che non aveva mai ratifica rettificato la sua la sua posizione e così noi l'abbiamo fatto insomma per cui ringraziamo per la coerenza insomma spero che spero che sia tutto più chiaro adesso per chi mi aveva scritto ciao genna sono antonietta grazie antonietta oggi fortunatamente ti ascolto in live ovviamente ho già messo like brava antonietta anzi brava antonietta che mi ricordi che devo fare questa operazione meravigliosa di prendere la nostra diretta ecco adesso prendo il link della nostra direttina dovreste farlo anche voi e e e e metterla su telegram nel frattempo mentre carbura parte la nostra la nostra live vi ricordo che da 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 oggi da ieri in realtà fino a domenica c'è il nostro black friday aiuto ce l'ho fatta il nostro anti black friday che vi invito insomma a a dargli un'occhiata perché ci sono degli sconti molto interessanti e il nostro stiamo per stiamo modificando completamente psine come come probabilmente avete intuito e nel nostro modificare ovviamente modificheremo anche i prezzi a rialzo visto che sono alcuni nostri prodotti hanno quasi o meglio alcune nostre iniziative hanno ormai una decina d'anni circa no dieci anni no ma più o meno e hanno hanno da tutti questi anni lo stesso identico prezzo visto che noi le stiamo migliorando costantemente le aumenteremo e quindi insomma chi vuole può approfittarne vedo che ne state già approfittando in tanti per cui grazie mille a tutti inoltre vi ricordo che sabato sarò a roma sabato 20 sarò a roma a teatro a presentare questo spettacolo l'oreste che tratta di malattia mentale una storia molto bella che parla di una un degente di un ospedale psichiatrico che fa delle cose davvero interessanti oltre ad avere oltre ad avere una idea particolare proprio di sceneggiature di scenografia io semplicemente parlerò di psicologia parlerò di stigma parleremo una mezz'ora e spero magari di incontrarvi un po prima dell'evento magari ci facciamo quattro chiacchiere post evento post evento insomma se volete il 26 invece poi aspettate aspettate c'è un altro il 22 sera poi vi manderò tutti i link per il premio dona sarò ospite appunto di massimiliano donna donna e appunto nel del premio dedicato a suo padre che ha fondato l'associazione consumatori e insieme ad altri esperti di psicologia di comunicazione soprattutto di voce parleremo un po di queste cose poi vi darò il link è il 26 invece a milano dal vivo la presentazione del libro di gerry grassi per il quale per per il quale ho fatto la prefazione ecco tutto il calendario presentato coglierò l'occasione fare un bel regalo di natale con emotional freedom brava rianna a tra l'altro ragazzi vedo i vostri nomi da non dall'applicazione ma dalla pagina web e quindi vi vedo infatti vedo sarà che scrive scusa genna ma la lucarelli dice che ritiene le mediere una buffonata no no non esattamente questo ascolta la puntata e non non dice che sia una buffonata tra l'altro anche intervistato la fernandez lei dice che ritiene una buffonata che si utilizzi le attenzione qua ha ragione la lucarelli ok che dice che si utilizzi le mediere per tirare fuori i ricordi del passato e renderli attendibili e renderli magari delle prove per andare poi a pescare delle persone che hanno fatto qualcosa nel passato su questa cosa qui lei ha ragione al mille per mille perché così i ricordi del passato che tiriamo fuori anche attraverso le mdr non è detto che siano veri e non possono essere utilizzati ovviamente come capi di accusa per contro delle persone i nostri ricordi sono sempre delle ricostruzioni della realtà questo non significa che non possano essere traumatici e quindi che ci si possa lavorare sopra cioè se arriva nel mio studio una persona che dice di essere traumatizzata perché è stata rapita dagli alieni anche se io non credo minimamente al fatto che sia stata rapita dagli alieni e dopo ovviamente dopo aver dopo essermi accertato che non abbia dei deliri di vario tipo che quindi abbia bisogno di altri trattamenti oltre al mio ovviamente tratterò quella cosa come se fosse vera attraverso le mdr non aspettandomi ovviamente che quando lei tiri fuori dei ricordi da questa stimolazione bilaterale che la tecnica che si utilizza nelle mdr questi siano reali a me non importa che siano reali a me ciò che importa e di lenire le sofferenze di quella persona è molto diverso è molto diverso e questa questa faccenda qua è super interessante una delle cose che questa è una cosa super interessante sui quali dovremmo fare un dovremmo fare un bel una bella puntata anche su questa cosa qua buongiorno buongiorno alessio genna buongiorno tutti spero che tu stia bene anch'io lo spero alessio ok allora sto cercando di capire come funziona la chat qui su su spreaker da questa parte però mi sembra che funzioni molto bene perché riesco a vedervi se non sbaglio quasi in tempo reale perché buongiorno a tutti esattamente in tempo reale quindi credo proprio che guarderò da questa parte allora aspetta un attimo che c'erano anche altre domande c'erano anche altre osservazioni sempre di sarah se non sbaglio l'intelligenza artificiale si basa sull'autocoscienza quale impatto etico avrà sul riconoscere esseri su sul riconosce esseri non biologici sarà ma io credo che ci sarà un impatto ovviamente molto forte però io credo che ci sia ancora un bel po un bel po un bel po di strada io sono sono della parte dalla parte di luciano floridi luciano floridi è un filosofo italiano molto bravo non volevo parlare di questo ma secondo me è attinente e molto interessante luciano luciano floridi ci racconta di come la tecnologia in questi ultimi anni in particolare il digitale sia riuscito in realtà non tanto ad unire delle cose ma a scollarle a scollare ad esempio il fatto che in questo momento io parlo con voi e la comunicazione dalla mia presenza prima se volevo parlare con un gruppo di persone dovevo essere presente davanti a loro quindi comunicazione e presenza erano in un qualche modo incollati tra di loro la tecnologia in particolare il digitale e ovviamente anche prima le onde elettromagnetiche la scoperta le onde radio eccetera ci ha consentito di scollegare cioè di scollare la presenza con la comunicazione allo stesso tempo floridi ci dice che in realtà l'intelligenza artificiale ci ha mostrato una cosa pazzesca che è possibile scollegare l'intelligenza dalla agentività lui la chiama agentività per tradurre in italiano il senso di agency dove per agency non si intende quello che intendiamo di solito nella nostra psicologia o crescita personale cioè la sensazione di avere un effetto sulla realtà ma si intende l'azione perché lui ci dice in realtà il tuo cellulare è potentissimo fa dei calcoli incredibili ma è intelligente quanto la mia lavatrice cosa vuol dire che è intelligente quanto la mia lavatrice che non ha volontà di comprendere ciò che sta facendo ha degli algoritmi che vanno tra virgolette alla cieca sono preprogrammati tra virgolette certo potrebbero autocorreggersi potrebbero migliorarsi ma ciò che farebbero sarebbe fare una cosa non mettere intelligenza in quella cosa l'intelligenza artificiale ci sta mostrando che essere intelligenti ed essere performanti sono due cose diverse essere veloci in un calcolo ed essere intelligenti non è la stessa cosa e la scollamento tra virgolette tra queste due cose ci sta insegnando cos'è davvero importante coltivare nell'intelligenza quindi le relazioni l'intelligenza emotiva la capacità di entrare la capacità di di entrare mentalizzare le azioni degli altri tutte queste cose qua la nostra creatività sono tutti aspetti che sono scollegati tra di loro quindi pensare che prima o poi ci sarà la la singolarità potremmo chiamarla così sarà l'idea che prima o poi le macchine visto che l'aumento di complessità al loro interno sarà così alto che diventeranno talmente umani che dovremo preoccuparci di un'etica robotica come in tutti i romanzi di asimo per quanto mi riguarda sono d'accordo con luciano floridi c'è ancora un sacco di di mondo per arrivare a quel punto c'è ancora un sacco di spazio tuttavia ovviamente noi ce le faremo lo stesso queste queste preoccupazioni perché già adesso antropomorfizziamo gli oggetti che utilizziamo anche il computer assolutamente allora alessio fa una domanda buongiorno buongiorno andrea buongiorno ciro buongiorno gaitano intanto adesso che vi vedo buongiorno alessio buongiorno raffaella allora alessio ho una domanda che potrebbe essere troppo semplicistica ma vorrei avere un tuo parere ritieni che il mondo del lavoro sarà in grado di integrare l'intelligenza artificiale con l'attività umana oppure ci sarà un graduale sostituzione dell'uomo e anche qui di nuovo vi invito a guardare gli spicci di luciano floridi il quale ci dimostra che il lavoro questo è bellissimo tra l'altro questo c'è anche su questo vorrei fare una puntata ci racconta non è che ci dimostri ma ci racconta che il lavoro è infinito cioè ciò che è finito è il mercato del lavoro allora tanto alessio si è ascoltato ciò che ho detto prima c'è una componente umana che le macchine non sono assolutamente ancora in grado di imitare cioè quindi la nostra capacità di adattarci a determinate cose di essere flessibili di interrompere programmi quando ci rendiamo conto che non sono utili eccetera sono tutte cose che le macchine non riescono ancora a fare e quindi per tutti tutte quelle situazioni nelle quali sarà necessaria l'interazione tra l'uomo quei lavori lì non andranno mai persi o perlomeno ci vorranno tantissimi tantissimi anni affinché vengano persi e nel momento in cui quei lavori verranno persi probabilmente ne emergeranno altri cosa ci dice floridi in modo interessante dice quando tu quando tu pulisci casa quando il tempo di pulire casa io non lo faccio mai per cui sono proprio una bella mi sento proprio in un ipocrita a dirvi questo esempio ma ve lo dico lo stesso quando tu ti metti lì e pulisci casa tua eccetera ti rendi conto che potresti andare avanti ancora un po quando tu hai finito il tuo lavoro che tu sia un dipendente un autonomo un imprenditore quando tu hai finito il tuo lavoro e decidi di chiudere la porta e dire oggi non lavoro più in realtà ci sarebbe ancora da lavorare ancora ancora e ancora le cose si possono sempre fare meglio le cose si possono sempre implementare è il mercato del lavoro che potrebbe non esserci più quindi il lavoro per chi deve pulire casa tra virgolette quel lavoro ci sarà è infinito tra virgolette il mondo di ciò che possiamo fare è quasi infinito è il mercato di ciò che possiamo fare cioè la l'abilità che che faccia che utilizziamo a mercato avrà mercato si potrà vendere quell'abilità lì o sarà un'abilità potremmo dire stupida cioè stupida che una macchina può fare perché è un'abilità prestazionale e un'abilità prestazionale dove c'è bisogno di tempo di durata di calcoli ciechi continuativi e eccetera eccetera tutte queste cose qui insomma credo ci vorrà un bel po di tempo poi io sono un emergentista pertanto per me è possibile che prima o poi un giorno la macchina inizierà a pensare no perché non credo che nella vita ci sia qualcosa di più speciale è qua qua adesso magari mi attirerò un po la rabbia di qualcuno non credo che nella vita ci sia qualcosa di più speciale di ciò che noi costruiamo io credo che tutto sia naturale adesso qui faccio arrabbiare qualcuno cosa significa che tutto è naturale tutto quello che noi costruiamo è costruito dall'essere umano così come la diga costruita dai castori la diga costruita dai castori è naturale il nido costruito dalle rondini è naturale se la risposta è sì allora anche il computer e gli strumenti dai quali voi mi state ascoltando fanno parte della natura ed è questo vuol dire che faccia bene no anche le scusate anche le scorreggie delle mucche inquinano l'atmosfera però converrete con me che le scorreggie delle mucche siano naturali e avere così tante mucche da poi mandare al macello per fare così tanta carne che è innaturale non so se non che innaturale che mina l'equilibrio della natura è insomma è un discorso un discorso bello 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 ampio buongiorno luca saluti dal lucchino e scusate il ritardo buongiorno buongiorno luca non ho ricevuto la notifica della live a porca cazzo gaetano stavo parlando con un ragazzo su meta di facebook e lui mi ha raccontato che preferirebbe vivere nella realtà virtuale con un visore vr beh questo è bello grave insomma che che preferisca vivere nella realtà virtuale con un vr però effettivamente effettivamente anche quella cosa lì potrà avere tanti tanti vantaggi in particolare io credo onestamente non vedo l'ora che sia sviluppata una potente realtà aumentata quella sarà una figata pazzesca voi immaginate immaginate la situazione seguente siete in auto si rompe la macchina in autostrada dovete chiamate l'assistenza mettete i vostri occhiali che avrete già addosso vi connettete con l'assistenza e l'assistenza vi dice esattamente quello che dovete fare guarda quello che vedi davanti a te ok quella cosa lì spot avete presente i film dove c'è il tizio che deve disinnescare la bomba il filo quale filo di quale colore ecco con la realtà aumentata questo problema non ci sarà più quel filo lì lo vedi te lo sto indicando con un cursore devi staccare quello quindi è molto 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 interessante alessio grazie per la risposta mi rassicura per il fatto del mio lavoro commerciale estero interazionale interazione umana e dal punto emotivo è fondamentale le emozioni sono un qualcosa che per me è fondamentale nel riuscire a portare a termine una trattativa però ben venga l'aiuto dell'intelligenza artificiale se fornisce una marcia in più assolutamente alessio tutti avvicinerai al tuo cliente sapendo che lui sarà davvero interessato perché tutto l'algoritmo di intelligenza artificiale ti avrà detto che quella persona c'ha l'otto virgola nove per cento mettiamo il 90 virgola otto per cento di probabilità di acquistare perché davvero interessato al prodotto perché ha fatto questo perché ha fatto quello e tu non dovrai usare le tecniche ninja di influenzamento nascosto dell'ipnosi piennellistica segreta ma semplicemente gli dirai va bene il contratto va bene perché anche lui avrà l'intelligenza artificiale che guarderà il contratto cerca questa intelligenza gli dirà se stai cercando di fregarlo se il prodotto che gli stai proponendo è buono non è buono e quindi sarà una roba speriamo a darmi pare e qua entriamo in un altro ambito l'ambito della democrazia dell'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale sarà davvero democratica se sarà a disposizione di tutti perché in questa scena di alessio per fare l'esempio molto chiaro è ovvio che se alessio c'ha questa tecnologia come probabile che ce l'abbiano prima i commerciali e dopo la popolazione è chiaro che alessio avrà tra virgolette uno sva un vantaggio sleale nei confronti del proprio acquirente e mentre se l'acquirente invece ha tra virgolette questa cosa qui è la stessa identica cosa anche al contrario sarebbe felice il mio amico massimiliano dona nel sapere questa cosa insomma se esistesse questa intelligenza artificiale in grado di di farci capire tra virgolette questa cosa qui renderebbe tutto potrebbe rendere tutto più democratico o lanciarci in un futuro dispotico dove distopico dove appunto ci saranno persone che avranno la possibilità di acquistare algoritmi che altri non potranno acquistare questo sarà un gravissimo problema di democrazia politico e e quant'altro domanda secca sarebbe in grado di scoprire domanda secca cosa sarebbe in grado di scoprire un'intelligenza artificiale insieme a noi ciro come dimostrato da quel bellissimo come potremmo chiamarlo da quel documentario che vi stavo indicando anzi ve lo cerco perché magari da qua è più facile visto che qua abbiamo la possibilità di navigare al fago documentary l'ho trovato se conoscete l'inglese potete vederlo da qui se non conoscete l'inglese potete e avete netflix usate netflix e potete vederlo da netflix ve lo metto qua il documentario tac ok intanto visto qualcuno ha detto che ha comprato mma aspetta che l'ho visto prima voglio ringraziarlo grazie ragazzi approfittate approfittate del alessio acquistato mma e non vedo l'ora di cominciare bravissimo alessio grazie approfittate degli sconti perché realmente non non proprio immediatamente dopo il black friday ma prima o poi presto molto presto all'interno del 2022 aumenteremo i prezzi dei nostri prodotti che lo ripeto ancora una volta per quanto mi per quanto mi riguarda valgono dieci volte i costo che hanno adesso ma tranquilli non diventeranno dieci volte più costosi però sicuramente le aumenteremo detto questo torniamo dal fagò e al film in questo film per ripetere qualcosa che abbiamo già detto in altre puntate l'ho messo sono riuscito sì in questo film praticamente si vede come l'interazione con una macchina renda questa persona espertissima immaginate immaginate il vostro lavoro immaginate un giorno di avere un compagno robot che fa il vostro stesso lavoro e confrontandovi con lui impariate di più sul vostro lavoro è esattamente questo ciò che è capitato grazie mille valentina che dice che si è regalata a self kindness grazie mille valentina vedrai che la self kindness potrà cambiarti la vita quello è un altro corso bellissimo che a me piace tantissimo e attraverso l'interazione con la macchina potrebbe si vede come il protagonista cambia non voglio spoilerarvi nulla ma sappiate che questa persona quando si mette a giocare con la macchina una grossa crisi perché non si aspetta minimamente che cosa accade non se lo aspetta minimamente ecco vedi quello che già sta dicendo ciro è esattamente esattamente il contrario di ciò che accade con l'intelligenza artificiale ciro scrive un computer che gioca a scacchi non può scoprire nuove mosse piuttosto può calcolare tutte le mosse che possono portarlo a vincere sempre ma i dati sono sempre fissi inserite inseriti da un essere umano no nel in realtà in realtà no ciro in realtà l'intelligenza artificiale scopre nuove mosse e questo che sorprende in modo incredibile i ricercatori e anche si vede in quel documentario buongiorno andrea buongiorno a tutti monia buongiorno aspetta attenzione tracciare che cosa ci piace una persona non è manipolazione per far acquistare tramite queste pubblicità tracciare che cosa piace o fa una persona non è manipolazione per farlo acquistare tramite queste pubblicità smart non capisco sono una domanda la tua gaitano o se è una critica ovviamente sembra una critica ma ci sta anche luca a mio parere il discorso sulla naturalità delle cose come da te espresso può sollevare dure critiche solo chi abbia una notevole rigidità mentale è un interessante verosimile chiavi di lettura ed eventualmente può essere discussa ma non criticata solo perché diversa dalla tua io sono d'accordo luca anzi tra l'altro abbiamo delle prove antiche di questa faccenda cioè siamo noi che oggi ci facciamo tutta questa sega mentale con il governo tecnocratico turbo liberista cioè parliamoci chiaramente ora lasciamo stare un attimo l'economia da parte che altrimenti qua mi scoppia mi scoppia una bomba in mano ma è proprio questa idea qua ragazzi l'idea di la parola tecnologia esiste da 200 anni ma noi utilizziamo la tecnologia da quando siamo nati come esseri umani la tecnologia sembra qualcosa di o paranormale ma qualsiasi cosa gli abiti che indossiamo il linguaggio che utilizziamo l'alfabeto è una tecnologia che noi utilizziamo monia scrive l'uomo fa parte della natura pensiamo ai nostri habitat naturale è fatto di edifici ponti strade che non crescono da nulla siamo parte della natura non ne siamo l'opposto bravissima monia esattamente ciò che sto intendendo vedo che te la intendi anche con luca che qua sotto di te nella mia cittina ciao andrea io in risposta al commento di ciro un computer che gioca a scacchi non può scoprire mosse nuove ti consiglio di leggere il racconto di asimo nove volte su 7 9 volte 7 fantastico ciao maria elena un saluto al volo prima di tornare al volo recupero con calma ottimo ti ho messo mi piace condiviso la rene siamo usciti dalle caverne pochissimi anni fa ed oggi ci siamo evoluti con maestieri oggi impensabili se i computer ci superano un giorno anche noi evolveremo sono perfettamente d'accordo non dobbiamo vedere l'evoluzione del computer come qualcosa di lontano dalla natura umana dobbiamo vedere l'evoluzione del computer come una conquista umana dobbiamo vedere le conquiste tecnologiche come conquiste umane non come conquiste disumane ecco quale potrebbe essere il titolo perfetto per questa live dobbiamo vedere l'evoluzione delle cose tecnologiche che inventiamo noi esseri umani come evoluzione umana non come evoluzione disumana ok c'è questa roba qua per me è fondamentale non è un'evoluzione disumana perché se la vediamo in questo modo l'unica alternativa è il ludismo e distruggere le macchine e distruggere noi stessi mentre in realtà dovremmo iniziare a vederla come un'evoluzione umana dovremmo iniziare a vederla al di là della politica perché sapete che se io faccio questo discorso in certi ambienti mi dicono ma questa è una posizione futurista è una posizione di destra no ragazzi non è una posizione politica è una posizione storica dobbiamo guardarla da questo punto di vista se guardate la storia sotto i vostri piedi degli ultimi dieci anni e di tutte le minchiate che girano online è chiaro pensare che la tecnologia ci ucciderà tutti se guardate a terminator lo sappiamo tutti che skynet prima o poi ci distruggerà tutti quanti allo stesso tempo questo non significa che sia innocua la tecnologia ripeto la tecnologia più antica che abbiamo il fuoco e anche fa ancora dei danni prendono fuoco prende fuoco la sardegna prende fuoco la california capite facciamo fatica ancora oggi a gestire la prima tecnologia che abbiamo creato per cui allora vediamo un po comunque all'uomo che non inventa aspetta è una domanda perché se sa tutto la ea e le sue debolezze poi mi provo a spingere ad acquistare certo è per questo che noi dobbiamo dobbiamo deve essere democratica questa cosa gaetano come dicevo deve essere bidirezionale andrea genna ha iniziato una terapia gestalt vedo che ci sono anche dei percorsi formativi gestalt sulla comunicazione come trennali e master dato che ho sentito parare di gestalt per la prima volta da te cosa ne pensi di questi percorsi formativi terra terapici e dei corsi di formazione dipende andrea da chi li fa ok dipende da chi li fa la terapia della gestalt è bella e interessante è stata molto innovativa quando uscì da fritz pers ma diciamo che per quanto mi riguarda da certi punti di vista è anche una terapia un po furbetta perché non tutti sanno che pers si servì del termine gestalt per dare scientificità al suo approccio perché la vera gestalt la gestalt psychology è un insieme di studi super scientifici fatti sulla teoria della forma nati in tra l'ottocento del novecento in germania ad opera di color var timer tutti questi personaggi qua cosa vuol dire questo vuol dire che in realtà lì dentro c'è un sacco di confusione io ho letto quasi tutti i libri di gestalt che ci sono ed è davvero difficile trovare una coerenza lì dentro c'è tanta roba buona lì dentro però non è tutta buona ecco te la posso mettere così è un cesto pieno di roba è come un cesto di mandorle dove una potremmo dire che c'è un 35 per cento di mandorle molto amare e quindi devi essere fortunato perché se prendi quel 65 per cento molto buono ti va bene ma se chiappi quelle amare rischi che ti rovinino il gusto di tutte le altre mandorle paola l'uomo non inventa la tecnologia ma la scopre e la utilizza imparando dalla natura io studio permacultura ed esattamente ciò che sto imparando o che bello grazie paola ciro comunque casparo se ricordava bene e riusciva a vincere è vero riusciva prima che inventassero poi perché ciro perché esattamente il computer deep blue con cui giocò la prima volta casparo se non sbaglio no forse era un altro nera di blu ma funzionava esattamente come dicevi tu costruendo tante insieme di mettendogli insieme tante partite dei campioni questo è bellissimo ciro mi dei modo di parlare di una roba tanto figa di una roba troppo figa che per ma che bello che bello anche questo è un esperimento bottom up invece che top down cosa succede che loro cosa facevano mettevano dentro l'intelligenza artificiale dei programmi di campioni dicono guarda che tutte le mosse esistenti sono queste e quindi il computer imparava da cose già fatte è un po come se io vi raccontassi il segre una roba e voi pensaste ascoltandomi di avere l'esperienza di quella roba lì in altre parole invece di farti toccare il fuoco per farti sentire che brucia e insegnarti a non toccarlo più sono io che ti dico non toccare il fuoco perché brucia e si dice un apprendimento top down dall'alto dal nostro cervello verso l'esperienza se avete letto facci caso sapete ok a un certo punto chi si è messo a costruire le nuove intelligenze artificiali ha detto ma se noi invece di fare così dicessimo semplicemente al computer guarda questa roba qua il gioco degli scacchi impara cioè in altre parole senza dirgli si gioca così con delle regole ma semplicemente guarda quella roba lì impara guardando cosa succede ed è qui che c'è la rivoluzione dell'intelligenza artificiale moderna attuale non è più un insegnare alla macchina che cosa fare mai dire alla macchina guarda e impara quindi non è più un apprendimento si dice top down dall'alto cioè come se fosse un apprendimento accademico dove io vi dico delle cose e voi credete a quelle cose di che il fuoco scotta e quindi non lo toccate ma è un apprendimento bottom up dal basso dove io tocco il fuoco e mi rendo conto che scotta questo tipo di apprendimento ha cambiato completamente radicalmente l'intelligenza artificiale ed è un po ciò che ho appena fatto leggendo il commento di ciro in altre parole io avevo un'idea top down di che cosa parlare oggi molto piccola in realtà pensavo di parlare di a b c e di a un certo punto vedo il commento di ciro che mi accende questa questa nuova roba e io dal basso tra virgolette prendendo il commento di ciro prova utilizzarlo per spiegare questa cosa una meta spiegazione non so se vi ho mandato in confusione ma alessio nel futuro ancora più di oggi potrebbe esserci una competizione rivolta prevalentemente sugli algoritmi in ogni aspetto della nostra vita e questo potrebbe generare un ruolo differente per noi stessi come già accaduto in passato assolutamente sì assolutamente sì il nuovo disco si chiama disuma è vero disumano anti fedez ma no povero fede a me ha fatto spaccare da ridere è stato un grande fedez altro che a parte che non ci non ci vada ma è stato un grande fedez anzi fate così scrivete sotto muschio selvaggio vogliamo gennaro romagnoli ospite a muschio selvaggio io sarei felicissimo di fare di farmi una chiacchierata con fedez altro che l'importante è che rimangono mezzi non fini bravo luca anche questo è vero alla fine tutto quello che una persona dice e politica politica e vita si è vero gaetano da quel punto di vista è vero però bisogna stare attenti a non far utilizzare a non far utilizzare queste cose per politica ok a non far utilizzare queste cose per politica altrimenti anche perché se dobbiamo metterci a parlare di queste cose caro gaetano e la fine e la fine ciao genna buondì buondì christian finito adesso le fisioterapie e mi sono conservato la domanda di giovedì scorso ok sparala perché io non me la ricordo christian mi faccio una domanda mi rifaccio un commento di rick du fer durante una sua live ok la letteratura ha il compito di metterci in guardia dalla tecnologia è il suo ruolo ci fa riflettere ma non significa che le macchine ci uccideranno certo è ovviamente ragazzi ovviamente possiamo guardare questa cosa da molti punti di vista anche dal punto di vista più umanistico infatti io sono convinto che la aumentare l'aspetto tecnologico che potremmo anche chiamarlo di di hard science aumenterà di conseguenza l'aspetto umanistico mi sembrerà assurdo mai così il fatto che le macchine avanzino ci consentirà di essere sempre più umani sempre più umani il medico non sarà più quella faccia da cazzo scusate ho detto faccia da cazzo non si doveva dire il medico non sarà più quella brutta persona antipatica che ti tratterà come se fossi una macchina ma dovrà essere lui a controllare la propria macchina ed essere umano nei tuoi confronti buongiorno simo buongiorno simona è una cosa particolare immaginate oggi oggi non ti importa se il chirurgo che ti sta per operare è antipatico meno l'importante che faccia bene la propria prestazione l'importante che mi faccia vivere di farmi un bypass al cuore non me ne frega niente se sei antipaticissimo ciò che mi importa è che tu sia bravo con le manine a mettermi a posto quella cosa lì quando in un futuro non troppo lontano sarà un computer a farci l'operazione al cuore e sappiate che non è così lontano ok mettiamo 10 20 anni ok a farci un'operazione al cuore perché sarà milioni di volte più precisa di un chirurgo perché non si stancherà come il chirurgo perché avrà accesso ad una banca dati di informazioni che noi ce la sogniamo ecco in quel momento il chirurgo non è che il chirurgo andrà in pensione ci sarà controllerà sarà lì e lui si occuperà anche delle tue emozioni faranno anni e anni di corsi dove gli verrà insegnato come mettere a proprio agio il paziente perché questo è importante al fine di collaborare con l'intelligenza artificiale che ti aprirà ok ok in quali giacomo scrive in quali prossimi modi sperimentali ipotizzi che verrà portata tecnologie in psicoterapia le persone tantissimo ad esempio nel libro a proposito nel libro di john gottman che un libro che ho letto quest'anno molto bello che la scienza della terapia di coppie della famiglia john gottman che vi invito a seguire se non sapete chi è ci racconta ad esempio di un di di un insieme di variabili ad esempio nella coppia che si possono aggiustare per poter prevedere fare degli esperimenti mentali su come andrà a finire una certa coppia la stessa identica cosa la potremmo fare con la psicoterapia ma per fare un esempio molto semplice giacomo molto bello tu un giorno prenderai il tuo bel smartphone o una fotocamera scusate bevo una fotocamera speciale questa fotocamera la metterai sul tavolo da psicoterapeuta te la metti accanto a te questa fotocamera riprende il tuo paziente e mentre lo riprende vede i parametri vitali il battito cardiaco la conduttanza cutanea le emozioni che esprime la coerenza sintattica e semantica di ciò che dice correla tutto e ti aiuta a fare la psicoterapia magari mentre sta parlando ti fa un segnale tu lo guardi guarderai sul tablet e dice in questo momento mentre sta parlando di sua mamma è particolarmente attivato esattamente come le altre 50 volte precedenti ogni volta che utilizza termini femminili che riguardano la mamma è particolarmente attivato chiedigli di sua mamma bene signore mi parli di sua mamma cioè la macchina sarà in grado di vedere delle cose che noi non possiamo vedere perché per quanto uno dica perché impari a calibrare ad osservare è vero ma fino a un certo punto non è vero che possiamo vedere tutto il nostro siamo limitati voglio certo possiamo imparare a vedere un sacco di cose ma tutte quella roba lì che tu vedi tutte le minchiate ok quindi avremo una bella webcam che scientificamente a casa ci spiegherà delle cose che noi non sapremo e questo migliorerà il nostro modo di fare psicoterapia perché ci insegnerà quei dieci parametri che non abbiamo ancora mai notato in quella persona non in tutte che cambiano quella persona attraverso dei calcoli algoritmici attraverso la correlazione di semantica sintassi comportamento non verbale conduttanza cutanea probabilmente ormoni nello spazio ferormoni lanciati nello spazio insomma abbiglia un sacco di roba andrea esco un attimo dal tracciato chiedo venia avere giramenti di testa per pochi secondi unitamente attacchi cardia pesantezza al petto e parità di sensibilità lieve al braccio possono essere sintomi di un attacco di panico se anche di un di un attacco di cuore così come l'hai così come hai descritto in situazione stressante o si potrebbe definire attacco di ansia è possibile comunque che un capogiro non abbia una causa organica ma psicosomatica la riflessione su quanto sia naturale e non è interessante semplice non mi cero soffermata concordo ok allora allora prendiamo alcuni punti della domanda di andrea allora ti ho detto ti ho detto scherza scherzando attacco di cuore è quello che allora la prima cosa che dovete fare se siete se avete un attacco di se avete ansia dei vostri delle vostre attivazioni fisiologiche la prima cosa da fare e che io faccio fare ai miei pazienti è un vero check up hai il giramento di testa temi che quella cosa lì possa essere non so un problema alla testa o un problema al cuore se ti viene il formicolio al braccio devi andare da un neurologo e da un cardiologo perché perché io non riesco a distinguere guardandoti negli occhi la differenza tra un sintomo magari da non lo so una crisi atriale non lo so del cuore da un attacco di panico o da un attacco di ansia che sorpresa è la stessa roba ok ok poi qualcuno li mette su scale diverse ma è la stessa cosa ok attacco di panico e attacco di ansia non è proprio la stessa cosa attacco di ansia e provare l'ansia così intensamente che è in realtà è normalmente la stessa cosa poi per noi tecnici sono cose diverse ma in generale è quella cosa lì quindi aspetta vediamo è possibile comunque un capogiro non abbia causa organica ma psicosomatica assolutamente si andrea tantissimi miei pazienti arrivano con una sintoma sono arrivati con una sintomatologia di di capogiro e e vi ho anche raccontato come spesso tratto queste cose no facendogli facendogli davvero avere dei capogiri no la mia paziente storica che vi racconto spesso aveva talmente paura di cadere davanti i suoi colleghi che io gli dissi le dissi cadi davanti i tuoi colleghi per finta vi siete mati tra l'altro questa tecnica qua l'ho presa da pers da quello della gestalt di cui si parlava prima il quale disse che per superare la paura di avere un attacco di cuore fin se un attacco di cuore in un bar se completamente mattano fidatevi di me è così poi per capire bene questa cosa vi invito ad acquistare das che costa meno in questi giorni dall'ansia alla serenità acquistatelo andrea se non ce l'hai ancora sappi che dentro das ci sono degli esercizi che possono seriamente aiutarti a risolvere questo problema di nuovo buongiorno simona ciao noemi arrivo sempre tardi ma arrivo e metto la e messo like brava noemi mettete anche voi gli umani sono come dell'intelligenza artificiali sì secondo quello che ci racconta a rari noi siamo degli algoritmi biologici la domanda di christian era a che ci serve la coscienza se funzioniamo bene senza a che ci serve quel 2 per cento se gazzanitica dice che la nostra attività mentali sono per il 98 per cento di sotto la coscienza non so cosa pensare bene cristian perché tu stai confondendo consapevolezza e coscienza non è la stessa cosa allora è allora coscienza non significa consapevolezza coscienza significa che sei vivo e che hai una e che hai un attività elettrica del cervello poi consapevolezza il fatto che io possa essere consapevole di qualcosa e non è utile è più che utile visto che come dice gazzaniga la maggior parte dei nostri la maggior parte dei nostri processi sono inconsapevoli ma tali processi inconsapevoli non possiamo conoscerli tutti ovviamente e poi ovviamente gazzaniga fa una percentuale che ovviamente non ha alcun senso a livello scientifico non fammi capire come l'hai calcolata questa roba del 2 per cento perché se ci riferiamo all'attività umana biologica è ovvio io non sono cosciente voi siete coscienti della sintesi proteica che avviene in questo momento nelle milioni di cellule che ci sono dentro i milioni di ribosomi all'interno delle milioni di cellule che abbiamo nel corpo no siete consapevoli dello scambio gassoso con i vostri polmoni no però siete consapevoli della vostra attività di pensiero o perlomeno siete un po coscienti siete un po consapevoli dell'attività di pensiero sono è quello questo problema non è un problema christian che tu stai ponendo non è un problema scientifico è un problema semantico di che cosa si intende per quelle parole che hai detto letano che per artificiali si natura ok certo mirella buongiorno potrebbe perdere il contatto umano se si utilizza queste tecnologie no gaitano forse tu dovresti riascoltare tutto ho partecipato da studente al seminario clinico di nardone e ho fatto da cavia per la dimostrazione live dell'intervento terapeutico quindi ho fatto terapia direttamente col prof ne è uscito fuori che il mio terapeuta ha toppato la diagnosi ed ha usato le tecniche come algoritmi e non come oristiche è il caso che gli parli al terapeuta di questa esperienza si parla nel sì ovviamente sì poi poi dipende ma il tuo terapeuta è un terapeuta strategico perché se non è un terapeuta strategico la questione non ha senso genna tu sai che sono assolutamente pro tecnologia scrive simona ma non si rischia così di ingabbiare il paziente in definizioni che possono diventare profezie che si auto avverano ma secondo me no perché secondo me nel momento in cui noi avremmo una intelligenza artificiale lei non prescriverà ma osserverà cioè lei farà quello che dobbiamo quello che dovrebbe fare uno scienziato lo scienziato descrive non prescrive la macchina ti dirà questa persona sta facendo x y z eccetera 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 probabilmente dovresti parlare di questa faccenda qua no non neanche ti dirà questo la macchina ti dirà si è attivata moltissimo quando parlava dei dei cugini maschi e allora tu gli dici parlami dei tuoi cugini maschi come un'ipotesi non è che tu dirai ah ho capito il problema è il cugino maschio nicola parlami di nicola di quando avevato avevate otto anni no oppure non ti dirà la macchina questa persona è depressa e quindi d'ora in poi mi raccomando chiamala depre ciao depre come stai no non è neanche questa cosa qui è un aiuto a descrivere ciò che accade quindi è un sarà un aiuto descrittivo non prescrittivo andrea scrive ecco la persona che parlava prima dei giramenti di testa si sto facendo tutti gli accertamenti per escludere del tutto le cause organiche prima di tutto ma volevo capire perché ed ora non sembrano esserci cause organiche allora i perché possono essere tanti ma posso dirti che una di questi perché è il tuo tentativo di non svenire è proprio la paura stessa di svenire che mantiene lo svenimento e il giramento di testa lo so un po strano temo di avere alcuni attacchi di panico senza capirlo das sarà il mio regale di natale anticipato ottimo andrea roberta ciao genna ieri ti leggevo il riferimento ogni cosa transita nel tempo tutto impermanente se in alcuni periodi della vita questo pensiero mi dava serenità ora come ora periodo buio mi rende tristissima e faccio fatica ad accettare che sia così mi fa molto male pensare che anche i legami siano impermanenti eppure è qualcosa di naturale ma quanto fa male è così roberta è così è impermanente è tutto impermanente aniccia aniccia un saluto a tutti ciao enea ascolterò indifferita ma ci tenevo a descrivere gratitudine per il tuo lavoro grazie mille nea sia un terapeuta strategico allora diglielo christian digli guarda che il boss ha detto che hai toppato e poi ne parlate insieme perché una cosa è fare una dimostrazione per quanto voglia bene al boss una cosa è fare una dimostrazione un'altra cosa è averti avuto in studio a gaetano dice se si mantiene tutta la relazione online tramite le moderne tecnologie non si perderebbe il rapporto ma ovvio che si perderebbe il rapporto umano ma non credo proprio che questo sia ciò che stiamo intendendo in questo momento gianluca diciamo che la tecnologia è uno strumento un'estensione delle abilità della persona o dello psicoterapeuta e non un sostituto poi sta alla persona usare con consapevolezza le potenzialità dello strumento assolutamente assolutamente sì gianluca un giorno avremo uno psicologo robot non lo so non lo so se probabilmente ce la faremo ad avere qualcosa di simile qualcosa che ci possa aiutare a districare le seghe mentali più semplici mettiamola così però che ci sia proprio un sostituzione ve l'ho detto secondo me non ci sarà una sostituzione tranne in quei lavori dove si può sostituire l'intelligenza cioè scusatemi la performance dalla agentività scusami la performance dall'intelligenza cioè dove servirà intuizione creatività strategia ci sarà sempre la mente umana sempre l'osservazione umana uomo con uomo ci sarà sempre l'essere umano tuttavia tanti processi che richiedono non intelligenza ma capacità di fare una certa cosa e farla bene come un calcolo come mettere insieme i dati eccetera quello sarà tutto delegato alle macchine quindi lo scollamento che dice vi ripeto guardate gli spicci di luciano floridi lo scollamento tra agentività ed intelligenza quello che ci ha mostrato floridi dice una cosa bellissima dice ciò che ci ha mostrato l'intelligenza artificiale non è che può sostituirci ma la cosa incredibile e come possa fare quelle cose senza essere intelligente come fa il nostro computer a fare tutte queste cose senza avere una coscienza senza essere intelligente questo è pazzesco capite buongiorno a tutti buongiorno genna come si può mettere in discussione la diagnosi di un terapeuta non potrebbe essere un mancato accettamento del paziente sì però si può certo che si può federico certo che ragazzi le diagnosi quelle vere sono molto secche cioè non è che la discussione è la discussione sta sta lì e poi dipende poi dipende da dall'etichetta ma se uno mi dice non lo so vediamo un po' mi è arrivato un messaggio perdonatemi ok ma se qualcuno mi dice non lo so i dieci criteri della depressione i dieci criteri dell'ansia i dieci criteri della schizofrenia non è che ci voglia Einstein capite cioè infatti non è un caso che alcune diagnosi poi non ufficiali vengano fatte da altri operatori non psicologi e neanche psichiatri magari un infermiere che mi è lì dice che cosa non riesco a svegliarmi al mattino ok da quanto tempo da un anno e perché guardi da quando mi è morto il cane non riesco più a farlo ok non riesco andare a lavoro ok come si sente triste felice sono triste tutto il giorno cioè non è che ci vuole non è che vuoi dire a lei è depresso no non sono depresso sono solo triste allora di nuovo è una confusione semantica non è una confusione su mettiamoci d'accordo su che cosa significa che tipo di nome vogliamo dare a quella cosa che stai passando capite ragazzi c'è poca filosofia quando avete davanti una persona che sta male cioè stare lì a pensare eh ma è quell'etichetta lì ma non è che poi diventa una profezia che si auto avvera bisogna infatti stare molto attenti a dire queste cose come dirle sono d'accordo con Gianluca certe cose non si possono sostituire a mio avviso ad esempio la parte emotiva soprattutto in medicina può fare la differenza assolutamente l'ho visto purtroppo aiuto mi avete perso nei miei amici malati di cancro ricoverati durante il primo lockdown eh sì eh sì sì verissimo Andrea pienamente d'accordo ma infatti non ci sostituiranno io ve lo dico questa è la mia previsione le macchine non sostituiranno ma ci renderanno più umani e questo è il tema le macchine ci renderanno più umani bravissima Arianna sarebbe un po' come avere il secondo terapeuta nella stanza dello specchio unidirezionale della sistemico relazionale assolutamente sì sarebbe quello eh ragazzi tra poco dobbiamo andare mi spiace ma io fino ai 30 per cui eh vediamo un po' con un neurone conosci un neurone e mezzo quei due simpatici ragazzi che parla di neuroscienza che ne pensi non conosco Luca ciao Genna sono nuovo qui a scrivere riguarda la paura sul futuro dell'interazione uomo macchina già oggi i filtri che abbiamo posto dalla nostra relazione ok certo grazie molto chiaro buongiorno Enrico forse Genna però potranno ricreare le cose che mancano alla tecnologia si parla comunque del progresso però potranno ricreare le cose che mancano alla tecnologia sì fino a un certo punto Giacomo eh fino a un certo punto però sì ovviamente sì esiste un test per scoprire i propri valori magari basato sulla I? Enrico non credo magari sì ma non lo so certo Genna grazie molto chiaro ci sono patologie o comunque cose molto chiare specialmente per uno specialista assolutamente assolutamente ragazzi il problema è l'etichettamento eh ma infatti è davvero un problema semantico e non un problema un problema psicologico reale quello lì ed è davvero un problema anche di comprensione di questa cosa di accettazione anche a livello sociale ragazzi ehm se verrete sabato a Roma che ci conosceremo lì io parlerò esattamente di queste cose qua ed è il fatto che le etichette che diamo ovviamente possono diventare dei macigni ehm ma bisogna in qualche modo imparare a gestire questa cosa il problema più grave non è tanto se chiamare ansia o meno l'ansia o depressione o meno la depressione il problema più grave è ciò che pensa la società quando una persona dice sono depresso quando una persona dice ho l'ansia ha un punto di vista completissimo stupidissimo che è come se io dicessi ragazzi ho la febbre e tutti quanti pensaste che io sono un imbecille perché ho la febbre capite? e questo è il problema grave gravissimo e questo è il problema più grave di tutti Valentina scrive io mi occupo di interazione uomo-macchina e il tema essenziale è quello di facilitare la vita dell'essere umano fantastico esattamente un bellissimo riassunto con il quale signore e signori vi saluto, vi invito ancora una volta vi ricordo Black Friday, Anti Black Friday di Psynel quindi sconti e poi alzeremo tutti i prezzi più avanti credo ma non è una minaccia ma assolutamente andrà così Anti Black Friday ci sono degli ottimi sconti andate su anzi adesso vi metto il link così potete andarci potete vedervi anche il coso facciamo pubblicità perché poi domenica finisce ok? quindi il mio team ha deciso così loro sono più bravi di me e lasciamo dove sei? dove sei? dove sei? eccolo qua troviamo il link troviamo il link eccolo qua copia e lo mettiamo qua ok qua c'è il link dell'anti Black Friday andate a vedere guardate tutte le robe ciao Simone benvenuto un po' in ritardo intanto vedo 77 commenti voglio vedere altri tanti like anche se qua mi sembra che Spreaker li nasconda ormai nasconde i like nasconde le a me non piace questa cosa ve lo dico non mi piace era bello vedere quante visite faceva vedere quanto veniva ascoltato una puntata insomma anche quanti like avesse o quanti follower no? perché qua siamo in migliaia in migliaia di follower ma Spreaker non ce li mostra più i follower vabbè fa lo stesso detto questo ragazzi il 20 quindi domenica finisce l'anti Black Friday il 20 sera alle 8 e mezza sarò in teatro a Roma venite su Instagram se volete sapere tutte le specifiche sarà uno spettacolo molto molto interessante ci conosceremo dal vivo se volete portate facci caso ve lo firmo insomma sarà un momento di di incontro poi il 22 sera online evento per premio dona per l'associazione consumatori parleremo di voce di comunicazione il 26 dal vivo a Milano questa volta al libraccio con l'amico Gerry Grassi presenteremo il suo nuovo libro del quale appunto ho fatto la prefazione e il primo dicembre tra l'altro ci sarà invece un evento l'altra metà della luna insieme a Valerio Rosso parleremo di psichiatria di adolescenza ci saranno un sacco di psichiatri di psicologi molto molto in gamba anche questo online gli appuntamenti dal vivo che sono le cose più interessanti saranno appunto il 20 e il 26 bene detto questo super aggiornamento non vi ho detto di che cosa parlerà la puntata 407 la prossima l'unica persona che lo sa è Alice che ci ascolta in questo momento perché le edita lei allora la puntata 407 parlerà finalmente di evitamento quando è che si parla di evitamento quando è giusto evitare quando è sbagliato evitare ogni volta che evitiamo diventiamo davvero più deboli evitare la stessa cosa della zona di comfort della crescita personale tutte queste cose le scoprirete nella puntata che come sempre uscirà domenica alle 18 bene credo di aver detto tutto grazie a tutti mettete mi piace condividete questa puntata e noi ci vediamo e ci sentiamo molto presto ciao a tutti